Il divoratore di spettri Lovecraft Follia? Un accesso di febbre? Vorrei poterlo credere. Ma quando mi ritrovo solo, dopo il calar del sole, nei luoghi deserti dove mi conducono i miei vagabondaggi, e odo attraverso gli spazi sconfinati, gli ecchi demoniaci di quei ringhi bestiali, di quelle urla e del rumore d'ossa frantumate, rabbrividisco ancora al ricordo della notte maledetta. All'epoca conoscevo molto poco la vita nei boschi, sebbene già allora esercitasse su di me una forte attrattiva. Fino a quella notte avevo sempre preso la precauzione di servirmi di una guida, ma all'improvviso le circostanze mi costrinsero a mettere alla prova la mia abilità personale. Era mezza estate nel Maine, e nonostante avessi urgente bisogno di recarmi a Maifer nel Glendal, entro mezzogiorno della giornata seguente, non riuscì a trovare una sola persona disposta ad accompagnarmi. A meno che non perdessi la strada che passava per Potovisset, in tal caso non sarai giunto in tempo a destinazione, avrei dovuto attraversare fitte foreste, ma quando chiesi una guida incontrai di nieghi e risposte evasive. Sebbene fossi uno straniero, mi sembrava strano che tutti avessero una scusa pronta. Quel villaggio era troppo tranquillo per avere così tanti affari importanti, e capì che gli abitanti mi mentivano. Tutti avevano impegni urgenti, o affermavano di averne, e non fecero altro che assicurarmi che la pista, attraverso i boschi, era molto agevole, correva dritta verso nord, e non avrebbe presentato alcuna difficoltà per un giovanotto sano e robusto come me. Se fossi partito la mattina, di buon'ora, aggiunsero, avrei potuto raggiungere Glendale sul far del tramonto, evitando di passare una notte all'aperto. Anche allora non sospettai nulla. La prospettiva mi sembrava accettabile, e quindi presi la decisione di provarci da solo, lasciando i pigri abitanti del villaggio ai loro affari. Probabilmente ci avrai provato lo stesso, anche se avessi sospettato qualcosa. I giovani sono caparbi, e fin dall'infanzia mi ero sempre fatto beffe delle superstizioni e delle storie delle vecchie comari. Così, prima del levar del sole, ero già in cammino fra gli alberi, di buon passo, la colazione in mano, la fedele automatica in tasca, e la cintura imbottita di fruscianti banconote di grosso taglio. Stando alla distanza che mi era stata indicata, e sapendo quanto veloce potevo camminare, avevo calcolato di giungere a Glendal subito dopo il tramonto, ma ero consapevole che anche se avessi dovuto passare la notte all'aperto, a causa di qualche errore di calcolo, avrei potuto fare affidamento sulla mia esperienza di esperto campeggiatore. Inoltre mi bastava giungere a destinazione entro a mezzogiorno seguente. Ma fu il tempo a mandare a monte i miei progetti. Quando il sole salì alto nel cielo, scottava anche attraverso il folto fogliame, e a ogni passo bruciava le mie energie. A mezzogiorno avevo già gli abiti inzuppati di sudore, e a dispetto di tutta la mia determinazione, cominciavo a esitare. Man mano che mi addentravo più profondamente nel bosco, vidi che il sentiero era sempre più ostruito dalla vegetazione, e che in certi punti questa lo aveva cancellato completamente. Dovevano essere settimane, forse mesi, che nessuno passava da quelle parti, e cominciai a dubitare di riuscire ad attenermi al programma stabilito. Quando ebbi fame, cercai l'angolo più ombroso che riuscissi a trovare, e cominciai a divorare il pranzo che mi ero fatto preparare in albergo. Alcuni panini insipidi, una fetta di torta a stantia e una bottiglia di vino leggero. Indubbiamente, un pasto tutt'altro che sontuoso, ma pur sempre bene accetto, a che si fosse trovato nel mio stato di sfinimento da caldo. Con quell'afa non mi avrebbe dato soddisfazione neanche fumare, così evitai di tirar fuori la pipa. Dopo aver finito di mangiare, mi distesi sotto gli alberi, deciso a riposarmi un poco, prima di intraprendere l'ultima tappa del viaggio. Suppongo d'essere stato sciocco a bere quel vino, perché, sebbene leggero, si dimostrò abbastanza forte, da completare l'opera che quella giornata torrida e opprimente aveva iniziato. La mia tabella di Marsa mi consentiva soltanto un sonnellino, ma non avevo neanche fatto in tempo a fare uno sbadiglio premonitore, che già dormivo come un sasso. Quando riaprì gli occhi, le ombre del crepuscolo si addensavano intorno a me. Il vento, carezzandomi le guance, mi ridestò del tutto, e quando guardai il cielo, vi dico una prensione che sarà ammassata una compatta muraglia di nubi nere, e che l'oscurità era fuori era di un violento temporale. Mi resi conto che non sarei riuscito a raggiungere Glendal prima del mattino seguente, ma la prospettiva di una notte fra i boschi, la mia prima notte di solitario campeggio nella foresta, appariva molto sgradevole in quella precaria situazione. Decisi immediatamente di proseguire ancora un poco, sperando di trovare un riparo prima che si scatenasse il temporale. L'oscurità coprì i boschi come una coltre pesante. Le nubi basse andavano facendosi sempre più minacciose, e il vento rinforzato soffiava ormai a raffiche violente. Il bagliore d'un lampo lontano illuminò il cielo, seguito da un rombo di malaugurio che presagiva avvenimenti spiacevoli. Poi una goccia di pioggia cadde sulla mia mano protesa, e sebbene continuassi ad avanzare meccanicamente, mi ero rassegnato all'inevitabile. Un istante dopo intravvidi la luce di una finestra attraverso i tronchi degli alberi e il buio. Desideroso di trovare un riparo, mi affrettai verso di essa. Avesse voluto il cielo che voltassi le spalle e ne fuggissi lontano. C'era una sorta di radura irregolare all'estremità più lontana della quale sorgeva un edificio, la parte posteriore rivolta verso la foresta primordiale. Mi ero aspettato di vedere una baracca o una capanna di tronchi d'albero, ma poco dopo mi fermai stupito quando scorsi una linda e graziosa casetta a due piani. Stando sulla sua architettura non doveva avere più di una settantina d'anni, ma era in condizioni che testimoniavano le cure più attente e civili. Attraverso i vetri a pannelli di una finestra del pian terreno brillava una forte luce e verso di essa spronato da un'altra goccia di pioggia affrettai i miei passi lungo la radura. Poi, dopo aver salito alcuni scalini, bussai vigorosamente alla porta. Con sorprendente prontezza rispose una voce profonda e piacevole e proferì una sola parola. Avanti! spingendo la porta che non era chiusa a chiave entrai in un corridoio ombroso in cui da una porta aperta sulla finestra filtrava un po' di luce. Al di là della porta c'era una stanza tappezzata di libri la stessa che avevo visto attraverso la finestra. Quando ebbi rinchiuso la porta d'ingresso alle mie spalle notai che nella casa leggiava uno strano odore. Debole, vago, indefinibile. Mi faceva pensare in qualche modo a una flore animale. Mi dissi che il mio ospite doveva essere un cacciatore o un trapper dedito alla cattura di animali da pelliccia e che evidentemente lavorava in casa. L'uomo che aveva parlato sedeva in un'ampia poltrona accanto a un tavolo centrale dal ripiano di marmo. Una lunga vestaglia grigia avvolgeva il suo corpo snello. La luce di una potente lampada argand ne metteva in risalto i lineamenti e mentre mi guardava con curiosità lo studiai con altrettanta attenzione. Era straordinariamente bello il suo viso sottile e ben rasato i capelli lucenti di un biondo chiarissimo spazzolati con cura. Lunghe sopracciglia regolari unite in un angolo obliquo sopra il naso oretti ben fatti dall'attaccatura bassa e piuttosto arretrata rispetto al volto grandi e intensi occhi grigi vivaci e luminosi. Quando sorrise per darmi il benvenuto scoprì una splendida chiostra di denti candidi e robusti e nell'indicarmi una poltrona agitò una mano delicata dalle lunghe dita affusolate le cui unghie rosee a forma di mandorla erano leggermente curve e curate in modo squisito. Non potei fare a meno di domandarmi come mai un uomo d'aspetto tanto attraente avesse scelto una vita da recluso. Mi dispiace disturbarvi a Sardai ma ormai ho rinunciato alla speranza di raggiungere Glendal prima di domattina e sta per scoppiare un temporale. Per questo ho cercato un rifugio. Quasi a conferma delle mie parole in quell'istante brillò un lampo abbagliante seguito da un tuono e il primo rovescio della pioggia torrenziale si abbatté contro i vetri della finestra. Il mio ospite pareva indifferente agli elementi scatenati e nel rispondermi mi rivolse un altro sorriso. la sua voce era gradevole e ben modulata lo sguardo infondeva una calma quasi ipnotica lei è il benvenuto gli offrirò tutta l'ospitalità che posso ma temo non sarà una gran cosa sono invalido a una gamba quindi dovrà arrangiarsi da sé se ha fame in cucina troverà abbondanza di cibo ma non un servizio inappuntabile mi parve di cogliere un lievissimo accento straniero nel tono di voce tuttavia si esprimeva fluentemente con proprietà di linguaggio quando si alzò notai che era di statura impressionante si diressa alla porta con lunghi passi claudicanti e solo allora feci caso alle enormi braccia villose che gli pendevano sui fianchi in evidente contrasto con le mani delicate venga disse prenda la lampada starò comodissimo anche in cucina lo seguì nel corridoio e nella stanza di rimpetto e dietro sua indicazione saccheggiai la catasta di legno nell'angolo e il grande armadio a muro qualche minuto dopo mentre il fuoco scoppiettava allegramente mi chiesi se dovesse apparecchiare per due ma lui rifietò cortesemente fa troppo caldo per mangiare disse inoltre ho fatto uno spuntino poco prima del suo arrivo dopo aver lavato i piatti della mia cena solitaria rimasi seduto per un po' fumando la pipa il mio ospite mi rivolse qualche domanda sui villaggi vicini ma si chiuse in un silenzio imbronciato quando apprese che ero forestiero mentre rifletteva non potei fare a meno di percepire in lui qualcosa di strano anche di sfuggente ed estraneo che sarebbe stato difficile analizzare di una cosa tuttavia ero certo mi tollerava a causa del temporale la sua non era genuina ospitalità quanto al nubifragio sembrava quasi finito fuori stava facendosi chiaro perché c'era l'una piena dietro le nuvole e la pioggia a catinelle si era ridotta a una tenea a querugiola forse pensai avrei potuto riprendere il mio viaggio e ne parlai al mio ospite meglio aspettare fino a domattina osservò ha detto di essere a piedi e ci sono tre ore buone di cammino fino a Glendal di sopra ci sono due camere da letto e se vuole trattenersi può prenderne una l'invito mi sembrò sincero e dissi poi i dubbi precedenti sulla sua ospitalità conclusi che il modo di fare un po' brusco era dovuto al lungo isolamento in quel luogo selvaggio dopo essere rimasto seduto in silenzio per la durata di ben tre cariche di pipa alla fine cominciai a sbadigliare è stata una giornata piuttosto faticosa ammisi e credo che sia meglio vada a letto sa voglio alzarmi all'alba per rimettermi in cammino il mio ospite con un gesto del braccio mi indicò la porta oltre la quale vedevo il corridoio e la scala porti la lampada con lei suggerì è l'unica che posseggo ma non mi dispiace davvero starmene seduto al buio quando sono solo non l'accendo quasi mai non è semplice procurarsi il petrolio in questi paraggi e io vado al villaggio molto raramente la sua stanza è quella a destra appena in cima alle scale presi la lampada e voltandomi per augurargli la buona notte dal corridoio notai che nella stanza buia i suoi occhi brillavano come se fossero fosforescenti per un attimo mi ricordarono la giungla e i cerchi d'occhi che a volte scintillano oltre il fuoco dell'accampamento poi salì le scale una volta al piano di sopra sentì il mio ospite attraversare il corridoio zoppicando ed entrare nell'altra stanza a pian terreno mi accorsi che si muoveva con la sicurezza di un gufo a dispetto del buio certo che non gli occorrevano lampade il temporale era finito e quando entrai nella mia stanza la trovai inondata dai raggi della luna piena che filtravano dalla finestra a sud priva di tende e illuminavano il letto con un soffio spensi la lampada lasciando la casa immersa nell'oscurità attenuata dal chiar di luna e avvertì un odore pungente più penetrante di quello del cherosene odore quasi animalesco che avevo sentito appena messo piede in casa sparancai la finestra e respirai profondamente l'aria fresca e pura della notte avevo cominciato a spogliarmi ma mi fermai quasi subito ricordando la cintura imbottita di denaro che portavo in vita riflettei che sarebbe stato meglio non essere affrettato imprudente perché avevo letto di uomini che avevano approfittato di occasioni simili per derubare e perfino assassinare il forestiero che ospitavano così dopo aver sistemato recoltri in modo che sembrassero coprire un corpo addormentato trascinai nell'oscurità non rischiarata della luna l'unica poltrona della stanza caricai la pipa e mi sedetti preparandomi a vegliare o a riposare a seconda di quello che sarebbe accaduto non doveva essere trascorso molto tempo da quando m'ero seduto e miei orecchi sensibili colsero un suono di passi che salivano le scale subito mi si affollarono in mente le vecchie storie di padroni di casa che derubavano gli ospiti ma dopo qualche istante sentii che i passi erano normali forti non dissimulati chi riproduceva non cercava affatto di essere furtivo mentre quelli del mio ospite che avevo udito dall'alto delle scale erano avattati e claudicanti vuotai la pipa e la rimisi in tasca poi impugnai la pistola automatica mi alzai attraversai la stanza in punta di piedi e mi appostai nervosamente all'angolo che la porta aprendosi avrebbe nascosto Lucio si aprì e un uomo che non avevo mai visto prima avanzò nella stanza illuminato in pieno dalla luna alto con le spalle larghe e distinto aveva il volto seminascosto da una folta barba squadrata e l'attaccatura del collo inguainata in un alto e nero collare rigido che in America non si usava più da tempo indubbiamente era uno straniero come avesse potuto entrare in casa senza che me ne accorgessi era al di là della mia comprensione ne potevo credere che fosse rimasto nascosto in una delle due stanze o nel corridoio al pian terreno mentre lo fissavo negli ingannevoli raggi di luna mi sembrò di poter vedere attraverso la figura massiccia ma forse era solo un'illusione provocata dalla sorpresa notando il letto in disordine ma non rendendosi conto che apparentemente era già occupato lo sconosciuto borbottò qualcosa in una lingua straniera e cominciò a spogliarsi dopo aver buttato gli abiti sulla poltrona dove sedevo si infilò a letto si tirò le coperte fino al mento e in pochi secondi respirò con la regolarità di una persona profondamente addormentata pensai di andare dal mio ospite a chiedere una spiegazione ma giudicai più opportuno assicurarmi che anche quell'episodio non fosse semplicemente un postumo illusorio del sonno indotto dal vino che avevo bevuto nel bosco mi sentivo ancora debole e scombussolato e nonostante avessi cenato da poco ero affamato come se non avessi toccato cibo dopo lo spuntino di mezzogiorno avvicinai al letto allungai la mano per afferrare la spalla del dormiente poi reprimendo un urlo di panico e di estremo sbalordimento indietreggiai con il cuore che mi pulsava impazzito gli occhi sbarrati perché le mie dita erano passate attraverso la figura del dormiente afferrando soltanto il lenzuolo sottostante sarebbe inutile analizzare nei dettagli le sensazioni contrastanti e confuse che provai quel uomo era inafferrabile sebbene continuassi a vederlo udissi il suo respiro regolare e mi accorgessi che si rigirava sotto le coperte quando ero ormai sicuro di essere impazzito o di essere stato ipnotizzato udì altri passi sulle scale soffocati felpati leggeri come quelli di un cane zoppicanti e lo scalpicio si avvicinava sempre più di più poi ancora quel pungente afrore animale ma adesso due volte più intenso stupefatto come se sognassi strisciai di nuovo dietro la porta aperta che mi nascondeva alla vista agghiacciato fino al midollo ma rassegnato a qualunque sorte concepibile o inconcepibile nell'arcano chiar di luna avanzò la forma snella di un grande lupo grigio si sarebbe detto che zoppicasse perché teneva sollevata una delle zampe posteriori come se fosse stato colpito da una pallotto lavagante la belva volse la testa nella mia direzione e nello stesso istante la pistola mi sfuggì dalle dita tremanti cadendo con fracasso sul pavimento quel crescendo di orrori aveva rapidamente paralizzato la mia volontà e la mia coscienza perché gli occhi che guardavano verso di me da quel muso demoniaco erano fosforescenti come quelli del mio ospite quando mi aveva fissato dal buio della cucina e anche adesso saprei dire se mi vedesse oppure no distolse lo sguardo dalla mia direzione e lo fissò sul letto ammirando con desiderio la sagoma spettrale del dormiente poi rovesciò la testa all'indietro e da quella gola diabolica uscì il più orribile ululato che mai avessi sentito un roco e selvaggio richiamo di lupo che per poco non mi fermò il cuore la figura sul letto si agitò aprì gli occhi e si ritrasse a quella vista la belva si rannicchiò fremendo e si avventò alla gola della vittima mentre l'individuo immateriale gettava un grido d'angoscia e di umano terrore che nessun fantasma delle leggende potrebbe simulare le zanne candide lampeggiarono al chiar di luna mentre si serravano sulla vena giugolare dello spettro il grido morì in un gorgoglio soffocato dal sangue e gli occhi terrorizzati dell'uomo si fecero vitrei l'urlo mi aveva spinto ad agire e in un secondo raccolsi l'automatica scaricandola contro il lupo mostruoso che mi stava davanti ma il rumore che udì fu quello sordo dei proiettili che non incontrando alcun impedimento si conficcavano nel muro di fronte e i miei nervi cedettero un cieco terrore mi spinse a correre verso la porta e a voltarmi una sola volta durante la quale vidi che il lupo aveva affondato le zanne nel corpo della preda fu allora che provai la più inaudita delle sensazioni e il pensiero devastante che ne seguì il corpo era lo stesso attraverso cui la mia mano era passata qualche minuto prima eppure mentre mi precipitavo giù per quella scala d'incubo udì lo scricchiolio delle ossa mangiucchiate probabilmente non saprò mai come riuscii a trovare la pista per Glendale e a percorrerla so soltanto che l'alba mi sorprese sulla collina all'imitare dei boschi con il villaggio dai tetti aguzzi sparso sotto di me e il nastro blu del catacqua che scintillava in lontananza senza cappello privo di giacca cero in volto inzuppato di sudore come se avessi passato la notte sotto il nubifragio esitavo ad entrare nel villaggio almeno finché non avessi riacquistato un aspetto più ordinato alla fine discesi la collina e attraversai le viuzze dai marciapiedi lastricati su cui si affacciavano i portoni di stile coloniale raggiunsi la Lafayette House e il proprietario mi squadrò con aria sospettosa da dove vieni così di buon'ora figliuolo e perché quell'aspetto sconvolto sono appena arrivato dal Maifer attraverso i boschi tu hai attraversato il bosco del diavolo questa notte e da solo il vecchio mi osservava con una strana espressione di orrore e di incredulità perché no ribattei non ce l'avrei fatta ad arrivare in tempo passando per Potovisset e dovevo essere qui entro mezzogiorno ieri notte c'era la luna piena mio Dio mi sbirciava incuriosito hai visto Vasili Ucranico fa il conte dica ho l'aria di uno scemo vuole prendermi in giro ma il suo tono era grave come quello di un prete quando rispose devi essere nuovo da queste parti ragazzo altrimenti sapresti tutto del bosco del diavolo della luna piena di Vasili e il resto mi sentivo tutt'altro che disinvolto ma sapevo che non dovevo essere riapparso troppo serio dopo le prime risposte ma davanti lei muore dalla voglia di dirmelo sono come un asino tutto orecchi allora senza tanti fronzoli mi raccontò la leggenda spogliandola di vitalità e di convinzione per la mancanza di colore particolari e atmosfera ma dopo quello che mi era successo non avevo certo bisogno del colore che un poeta avrebbe potuto aggiungere alla storia ricordate ciò cui avevo assistito e non dimenticate che non ne sentii parlare se non dopo che ero fuggito dall'orrore di quelle lugubri ossa divorate una volta c'erano dei russi sparsi fra qui e il Maifer che giunsero dopo uno di quei complotti nichilisti che abbondavano nella madrepatria basilio kranikov era uno di loro alto snello affascinante coi capelli biondi lucenti e modi squisiti tuttavia si mormorava fosse un adoratore del diavolo un lupo mannaro un divoratore di uomini si costruì una casa nei boschi a circa un terzo di cammino da qui a Maifer ci viveva solo di quando in quando qualche viaggiatore usciva dalla foresta raccontando la strana storia di un grande lupo con lucenti occhi umani che l'aveva inseguito occhi come quelli di ucranikov una notte qualcuno tirando a casaccio colpì il lupo e quando il russo tornò a Glendal zoppicava da una gamba non occorreva altro ormai non si trattava più di semplici sospetti ma di fatti nudi e crudi lui mandò a chiamare il conte a Maifer si chiamava Fiodor Cerneschi e aveva comprato la vecchia casa con l'abbaino di Flower in State Street voleva che venisse a trovarlo tutti misero in guardia il conte perché era una brava persona e un ottimo vicino ma quello rispose che era in grado di badare a se stesso era una notte di luna piena il conte era coraggioso e si limitò ad avvertire alcuni uomini del posto di raggiungerlo a casa di Vasili se non si fosse rifatto vivo a un'ora ragionevole così fecero e dimmelo tu ragazzo che hai attraversato la foresta di notte ma certo risposi cercando di apparire disinvolto non sono conte ed eccomi qui a raccontarla alla fin fine cosa trovarono gli uomini in casa di Ucranikov trovarono il corpo straziato del conte ragazzo e un grande lupo grigio che si aggirava nei paraggi con le zanne ancora grondanti di sangue puoi immaginare chi fosse quel lupo da allora la gente dice che ad ogni luna piena eh ragazzo ma non hai proprio visto o sentito niente proprio niente nonno mi dica che ne è stato del lupo alias Vasili Ucranikov lo hanno fatto fuori ragazzo lo imbottirono di piombo lo seppellirono nella casa e poi lo bruciarono sai tutto questo accadde sessanta anni fa quando io ero ancora uno sbarbatello ma ricordo tutto come se fosse ieri mi allontanai facendo spallucce alla luce del giorno tutto mi appariva strano sciocco e irreale ma a volte quando mi ritrovo in posti deserti dopo il calar del sole e odo l'eco demoniaca di quelle urla e del ringhio animalesco e quel detestabile scricchiolio d'ossa divorate abbrividisco ancora al ricordo di una grazie a tutti Grazie a tutti